Due imprenditori e un geometra sono stati indagati a vario titolo dalla guardia di finanza della compagnia di Foligno in relazione a un notevole contributo a fondo perduto stanziato dalla regione in seguito al terremoto del 1997 per la ristrutturazione di un opificio industriale a Nocera Umbra che in realtà secondo gli investigatori non è stata realizzata. In particolare uno degli imprenditori è il proprietario dell'immobile di un valore stimato in 150 mila euro e ora ha messo sotto sequestro. L'altro è il titolare della ditta edile incaricata dei lavori mentre il geometra era incaricato della loro direzione e ne ha attestato la regolarità. Il contributo è stato ottenuto a fronte di un progetto da 90 mila euro ma in realtà secondo la guardia di finanza i tre indagati avuto all'approvazione della regione hanno realizzato solo una piccolissima parte dei lavori di ristrutturazione che un consulente della procura di Spoleto ha stimato non superiori a 7.500 euro. Truffa aggravata legata all'erogazione dei fondi pubblici e falsità ideologica per i documenti presentati, i reati ipotizzati in concorso per i tre. In base a quanto emerso dall'indagine Happy Ship coordinata dalla procura di Spoleto gli stessi indagati hanno falsamente prodotto documentazioni e dichiarazioni anche mediante fatture fiscali attestanti lavori mai eseguiti per un importo di 90 mila euro. Ancora una volta la guardia di finanza sottolinea lo stesso corpo in una nota si conferma protagonista nel delicatissimo settore della spesa pubblica a garantire il corretto impiego dei fondi pubblici evitando inutili sprechi.